Ciao ragazzi, vi ricordo che proprio in questo momento siamo live sul canale Viola per giocarci il torneo da 50.000 dollari di Code Warzone europeo Quindi vi aspetto di là appena avete finito di vedere il video, bella, buona visione Hola, sono proprio feschissimi questi sconti dei miei protein, questa è la settimana del 70% di sconto Se potete utilizzare anche il codice a sgarra per ottenere il mio 40% di sconto Barrette, burri proteici, cose proteiche, biscotti proteici, bevande proteiche, vestiti proteici Mi raccomando ragazzi, quando fate uno shop, un qualsiasi acquisto su me protein, taggatemi su Instagram che vi riposto Link in descrizione Amici miei, siamo qui oggi in questo video di GTA, insieme ai miei amici Partiamo dal più fallito, Jack Settimo Grazie, benvenuti ragazzi JumpyDeck Grazie per essere meno fallito di Jack XMurrayOfficial Vivo per miracolo, vivo per miracolo Mike Shosha purtroppo ragazzi, ci ha pisciato, ci ha tradito praticamente, come si può dire questa cosa? Cioè ci ha lasciato E cugino guarda, purtroppo come puoi ben sentire in questo momento mi trovo al mercato Sto comprando un paio di golosissime pantofole, quindi mi dispiace ma non posso esserci E facciamo la prossima volta dai Ah comunque ragazzi, Mike Shosha appunto ci ha pisciato e rimpiazzerà un giocatore romanista questa volta, non laziale Stai romanista Esattamente Come si chiama questo giocatore? Ricordiamolo però No, se lo parli si chiama il francese del termine basso Cesaroni, giusto? Esattamente, su Instagram, mi raccomando ragazzi E invece, fratemi giustamente Ciao ragazzi, prendetevi il c***o Torniamo, mangiando a fare il pane di palle Allora, il Murray suona, arriva a festa e suona Voi a suonare, si andano a spuicciare tutti, picchie basso io Che c***o Perchè ridiamo Porco Che ermonellone Comunque ragazzi, allora, la tematica di oggi Dio di un p***o, mi sono arrivato Dio di un p***o Il videocorso, così sei convinto che si vende il cpm Vero ragazzi, perché l'ultima volta ho visto che il cpm si sarà molto alzato Ho visto che, davanti ai video, parte la pubblicità di un ragazzo che vende corsi di webmarketing a Dubai Come si chiama per caso, forse lo so chi è No, non so Non lo so, non lo voglio nominare Io vorrei salutare comunque questo ragazzo che ha fatto Gio Hai rotti con i c***o Non ci crede nessuno a questa cosa Mi senti venendo un complimento No, 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 ha rotto il c***o Ragazzi, vedete con i videocorsi di webmarketing C'è Franzo che vive a Dubai, eh Già che ragazzi lo conoscerete appunto su Twitch, ovviamente, perché è molto famoso Ormai è un Twitcher di successo All'avanguardia Torbi, ti posso fare una domanda Ma se io domani venissi e ti dicessi Tu che mi diresti? Non capisco Cioè, Murray vive in una casa con le prese di corrente nella doccia Però ogni giovedì Ogni venerdì Ricordiamolo bene, perché sennò qua sembra che c'è uno scambolo Che poi non è che le fanno in maniera diversa Sempre gratinate Gratinate Sempre Allora, ragazzi, no Ma la zuppe qua se non ha più palata, compagnia No, ragazzi, allora vi spiego Io arrivo alle due Io arrivo alle due a casa Perché prima streammo tutte le mattine, ovviamente, da lunedì alla domenica E quindi, io arrivando tardi, la zuppa con le cozze non me la possono fare, ragazzi Se posso mangiare solo pasta cucoz e riso, patate e cozze Ah, ho al massimo il tramezzino col tonno Che è sempre di buono specie, ovvio Io spero di non diventare mai come te Stormy Forse io non te l'ho già detto più e più volte Però è sempre meglio ribadire Ragazzi, sono sempre... Cioè, io vi giuro Faccio sempre questi video Arrivo sempre primo nei miei video Sono davvero... Sei bravissimo Sei proprio un top content creator, è fatto Jack, dimmi Commettiamo che ti faccio dire di no Vai Allora, ci sono tre porte Quale apri? Quella di destra, di sinistra o centrale? Centrale Le hai messe in difficoltà, eh? Centrale Dentro la porta centrale ci sono altre tre porte Quella di sinistra, quella centrale e quella di destra Quale apri? Centrale Eh, vabbè, che c***o Lo sapevi allora? Perché? Ah! L'ha detto! L'ha detto! Che c***o, ma che stupido Lo sapevi? Ragazzi, è tiktok Colpisce ancora Lo sapevi? Ha spaccato qualcosa perché... Blastato Che boomer L'hai blastato? Mio Dio, ma è spaiuto L'esempio di boomer, Jack Ha chiuso il canale di Twitch, eh? Morri, ma davvero? Ma tu hai fatto dei videocorsi, se non sbaglio, per questo Io sì Usi Twitch Datemi un parere su tiktok, ragazzi Che dicono che sia il social del futuro Ma il 90% dei contenuti di tiktok Sono da galera È il cringe fatto social Poi vorrei fare uno shoutout a Boroboro Secondo me si è scordato una N nella canzone Perché sì, c'è Nenna Non lo so, ragazzi Parlava con il cane mentre giocavamo Quindi non aveva una rocca Esatto, esatto, Rocco Rocco ischido Ma, Giampiette, ti puoi fare una dose di c***o tuoi, porco d***o? Mi puoi stare un po' di zucco? Io c***o Guarda come si stanno a infirmare Sì, niente, Gbernao Bravo Dio, vuole un po' questo Oh Dio, ma che è successo? Passa in mezzo Oh, c***o C***o Nata di clinchia Di c***o Di c***o Porco d***o Come sono morto? Stormi, hai... Sei un ammasso di c***o Ti ho democchiamato un u*****o Ma ve lo dice sempre mia madre, anche, ragazzi E fin qua, si sapeva E qua, ragazzi, non c'è nulla di nuovo Mamma, ma ingiustamente Jack da quando ha comprati il joypad è diventato bravo Che succede? Comunque, ragazzi, Jack è particolarmente zitto Secondo me non si trova molto a suo agio, eh No, con un po' p***o, ma c***o Ma c***o, mi chiammi, ecco, p***o zitto, porco d***o E per tutti gli altri italiani, anche E non solamente di Lampedusa Perché deve c***o a me, deve infastidirmi, ecco Infastidirmi, p***o, c***o, ma c***o, ma c***o C***o, ma c***o, ma c***o, ma c***o, ma c***o Bello questa gara acquatica, mi piace Mi ricorda tanto il mare, le vacanze Comunque Stormi che mi ha tirato un giocatore in coda Sei proprio top fallito, c***o E ragazzi, ma bisogna aiutare gli ultimi Che erano lo scherano Gli ultimi saranno i primi Soprattutto Camposanto Ragazzi, ma secondo voi cosa c'è dopo la morte? Per chi è stato bravo, c'è un bello p***o Tu scegli una, ricata a fare un bello succone E poi muore e basta Una morta o no? No, una, tu muori Il corpo è morto L'anima... L'anima si va a fare su quattro Si va a fare su quattro Da quella che vuoi tu E poi però muore E sta a lavorare in mezzo a me Dammi un nome Angela White Io mi facessi sapere un succone di Angela White Facciamo vedere una foto di Angela White No, è bannabile Pensureremo la foto con una bella scritta Videocorso Esattamente Audiolibro Ma Jack, posso chiederti una cosa? Ma ho visto che Tuo padre è molto contento Della scelta che hai fatto In investire il tuo tempo Ma ho salito Ho salito che tu p***o Ma no Jumping, ma fai proprio schifo Così, ragazzi? Da quando Jumping ti ha fatto Twitch? Se se la tira tantissimo Jack, non cambiare discorso Stai facendo adesso tu lo streamer nella vita? Sì Dio di un c***o Mi sto approvando Stai approvando a sfondare nel mondo del web marketing Perché tu vendi pezzi No, vendo Taglia, taglia, taglia Il bello è che le dice Stupido E si diceva solo taglia, taglia, taglia Stupido, ragazzi Ragazzi, io credo che Se noi prendiamo i nostri video I nostri video e non li censuriamo Abbiamo finito, eh Sono tutti tuoi, Matteo Assolutamente Meno male che sono bitpatico Arrivederci Porto Faccio parapendio Banda di c***o Banda di c***o Io p***o Stormi adesso cos'è un tipo di roc***o C***o Tu p***o Porto mio giro No, murri, p***o No, non ci credo No, frate, ha blastato No, frate Frate Bus Frati Bus, non c'è la scia, porc***o Frati Bus, p***o C'è la scia No, frate, si è fatto tu la Non ci voglio, credo Non ci credo Ragazzi, terzo per tutta la gara Quando l'intelletto supera il progetto Sotto al letto un funetto Qualcuno gli dica che c'è la giocatoria in c***o Da poco pare, qui c'è il tuo piglio Ab da palla sinistra Ancucca adesso Sento che sei molto forgiato Forgiato Ma vichio come il personaggio si sta grattando un pacchio che è bim No, ho sbagliato la moto Ragazzi, muri è l'unica presa la moto top Ah, motora, porc***o E qua bisogna buttarlo fuori salta Aspetta ragazzi, un mio amico Così, grazie Ci topono questo a casa mia Non subito muore Buttiamolo fuori salta ragazzi per fuori Tutti con sto coso rosa Tre, in tre ragazzi, in tre tutti fuori Io c***o Ingoio Mi sapevo che la mamma di Jack faceva proprio la... Lavorava nel bosco Ma perché tutti i parenti miei, cioè, ma che c***o vuoi? Ma perché quelli là dei diciamo i mori sono già m*****o Ma basta, ma tocchi i pallo, ammazza Il figli arrosa figli arroso Oggetto poi al Q Eh, tu non c'eri nel video di Max Shosh, amore Purtroppo non lo sai F***ata sta roba, non l'avevo mai vista Mi piace, compagno, il suo scheletro Competitivo e contenutistico, molto bello Competitivo e contenutistico, amm*****o Tu non c'è una m*****a, è un contrapeso Nooo, non dite queste cose Che si, ma che è? Morri, ho visto che hai riscontato molto successo il fatto della tua... ... con le fecce dell'ultima volta Sono interessati all'argomento, eh Devesti fare un videocorso Un videocorso Ma tu basta che mi riusci a sapere tu lì Aspetta un attimo ragazzi Ho detto il quartiere che è lui Che orario ti prefissi Morri per i tuoi videocorsi in live? ... web, al live Generalmente quando? La sera o la mattina? Con il nome s******o So che la mamma di Jack è molto interessata a questi argomenti Esatto, pensando mai Prova a chiedere Jack a tua mamma se ha bisogno di qualche consiglio No ragazzi, gigante La C-180 de... no, che quando mai? O Melendio Unfalco I bombardieri Stelte Com' bella questa gara Complimenti davvero a chi la scelta Complimenti alla Rockstar Ma questa gara qua sceglie un pezzi su c***o a pompa Ma Morri, ma tu so che tu appunto sei esperto per quanto riguarda la lunghezza del pene Qual è la nazione dove il c***o è più lungo? Palermo Ovviamente le popolazioni di origine indigena Perché però? Perché hanno un contatto con la natura molto più sviluppate La m***a cioccolatinosa è più barzotta Un attimo che è sceso il gelo in questa c***o Io sono all'invito Alle porte Scusate ma le devo dare le chiavi della conduzione? No questa è pochissima Se vuole signora conduce lei No ma fa proprio schifo La c***o fa proprio schifo ragazzi Ovviamente lo bipperò in modo tale che non mi... Perché è così che se vuoi lavorare con la c***o Esattamente bravissimo A lavare o a fare puzzo? A puzzare un po' Cioè se la smagma Che lingua è questa? Ti vorrei chiedere scusa per tutti i disagi che ti ho causato in quest'anno Una pizza per chiederti scusa Allora ti tricherò una pizza con i soldi da Rivals Ragazzi ma Morri con quella moto rosa è fortissimo E' pazzesco Schermo spento tutto il tempo Pazzesco ragazzi Pazzesco Madonna sto... Oddio Oddio Ti ho visto fuori Jumpy Deck Sei proprio uno streamer professionista ormai Non ti fai abbattere da questi cormutismi No non mi faccio abbattere da nessuno assolutamente Ma fa male col quel c***o Jumpy sto arrivando Se vogliono di prenderti in qualche modo Te l'aiuto in coda ma non riesco a prenderti Te l'aiuto in coda? No non c'è l'aiuto in coda Ma non c'è l'aiuto in coda Mannaggia ecco chi è Oddio Oddio Jumpy Deck Oddio Jumpy Deck Oddio Jumpy Deck Oddio contenuto questo contenuto eh Stormy Stormy Rietor questo eh Dove perché come so pro torneggiare l'aereo Pro torneggiare Amor Aaaaaa che d'amore Ma me che Che c'era Stormy Ragazzi Ho attentato What the fuck Fermiamo quella m***a Fermiamo quella cosa gialla ragazzi Mi ha piato la piato la piato la piato Niente ragazzi ha vinto Già un pazzetto Capito il mio canale Ricordiamo che con Amazon Prime Potete farla sapere gratuitamente Intanto vedere chi ha vinto la playlist Ma soprattutto Concludiamo il video con un insegnamento Prego Murray Il detto di oggi è molto semplice In quale è a sangue Io è sb***o Ma ci penso io A in c***o Tanti ci pensiamo tutti tanti A s*****o Ma ci penso io Ma ci penso tu Amici miei che è un incredibile rammarico Noi ci vediamo in un prossimo video WOOOOOO Musica 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 Grazie a tutti.